Servono almeno 50.000 euro per salvare la fornace romana di Piancavallo, il sito archeologico scoperto fortuitamente nel 1975 nella frazione Radelli di Bettola. I frequenti atti vandalici e il poco denaro a disposizione per il restauro conservativo rischiano di compromettere l'unico sito archeologico pubblicamente fruibile in Valnure. Un appello accorato a tutte le istituzioni è stato lanciato in un incontro pubblico dal sindaco di Bettola, Sandro Busca, dai volontari del gruppo archeologico della Valnure e dalla soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggi di Piacenza e Parma che negli ultimi anni ha notevolmente concentrato le proprie attenzioni sul sito. La fornace di Bettola è un manufatto molto importante, è una fornace di età romana come tutti sanno. Nel 2013 è stato fatto il decreto che l'ha immessa nel demanio culturale pubblico quindi ne ha dichiarato l'importanza dal punto di vista culturale per la sua fruizione e visibilità. La fornace però è versa in condizioni molto precarie per quanto riguarda la conservazione. La soprintendenza ha fatto un progetto già negli anni scorsi con i propri restauratori che prevede degli interventi conservativi importanti che hanno dei costi rilevanti, alcune decine di migliaia di euro. Senza questo la fornace è soggetta ad una implosione. I muri di contenimento stanno spingendo contro gli archetti del prefugno e della camera di combustione e quindi è destinata proprio a deteriorarsi in maniera definitiva. Per cui è urgente un intervento di restauro conservativo. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Per il sindaco Busca la fornace che resale a un'epoca tra il primo secolo avanti e il primo secolo dopo Cristo non ha nulla da invidiare a Veleia Romana. Per questo oltre al prezioso lavoro dei volontari occorre fare di tutto per recuperarla e riportarla a nuova vita. L'appello che lanciamo lo lanciamo alle istituzioni che hanno competenza su questa materia in modo particolare al Ministero delle Belle Arti e per quanto riguarda il livello locale agli organismi in modo particolare alla fondazione di Piacenza Vigevono ma anche i Lions e i Rotary che hanno sempre avuto e dimostrato sensibilità e non sono mai stati sordi le richieste di intervento su beni che hanno particolare pregio storico e culturale nel nostro territorio. Per noi significa un intervento di manutenzione straordinaria perché vanno eseguiti lavori da parte di persone molto esperte in questi interventi per evitare che il manufatto imploda e che venga meno quindi un patrimonio storico di primaria importanza su scala provinciale e regionale. Uno degli obiettivi dell'amministrazione è quello di rendere il sito appetibile per il turismo ma soprattutto per le scolaresche.